In tempi di crisi e di pesanti tagli ai bilanci delle amministrazioni locali, è già una grande notizia mantenere sugli stessi livelli del passato aliquote e tariffe, evitando rincari. La Tari è il tributo dovuto per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Una tassa che a Sassari non solo rimane invariata rispetto allo scorso anno, ma sono previsti risparmi per famiglie e imprese. Questa mattina si sono riunite in seduta a congiunta le commissioni finanze e ambiente del Consiglio Comunale di Sassari per l'approvazione del PEF, il piano finanziario per la tariffa di gestione dei rifiuti urbani. Subito dopo la seconda commissione ha proseguito i lavori con la presentazione delle tariffe della Tari per il 2017. Sono intervenuti gli assessori alle politiche ambientali Fabio Pinna e alle finanze Simone Campus all'esordio in questa veste. Entrambe le pratiche sono passate a maggioranza con il sì del centro-sinistra. Adesso la discussione si esposta in Consiglio Comunale. La grande novità è che quest'anno l'amministrazione comunale di Sassari riduce l'imposta per i rifiuti, la cosiddetta tassa mondezza. Stiamo abbassando sensibilmente per le imprese e c'è una piccola riduzione anche per le famiglie. I cittadini coprono con la tariffa 24 milioni e 470 mila euro di quanto previsto dal PEF, che per il 2017 sfiora i 26 milioni. Il PEF comprende anche un saldo di 830 mila euro. Significa che è stato maturato un risparmio. Questo consente una diminuzione media della tariffa dello 0,80% per le utenze domestiche e del 4,45% per le imprese. L'amministrazione ha collaborato in maniera molto forte per ottenere questo importante risultato. I cittadini sono riusciti a superare la soglia del 50% sulla raccolta di rifiuti. L'amministrazione ha ottenuto un importante risparmio di spese che stiamo restituendo ai cittadini. Quindi queste sono le cose che contano. Grazie.